Ciao, io sono Luca, il mister delle pulcine, il nostro gruppo è composto da 20 bambine, stiamo lavorando soprattutto sull'aspetto tecnico, gli obiettivi che abbiamo sono rivolti allo sviluppo soprattutto di alcune situazioni a livello tecnico, quindi ad esempio vado a sviluppare molto i concetti di controllo della palla, tiro, passaggio, comunque le cose basi che mi devono, mi servono per andare a comunque formare una calciatrice dal punto di vista soprattutto, come ho detto, tecnico, è un gruppo fantastico, hanno sempre una forza e un coraggio ad andare in campo, sempre anche contro i maschietti, danno sempre prova di avere una forza grandissima e niente, cosa posso dire, in campionato stiamo andando mica male, abbiamo fatto dei buoni risultati, considerando anche comunque che incontriamo sempre formazioni maschili, abbiamo fatto abbastanza, più o meno metà vittoria, qualche pareggio e poche sconfitte, dopo abbiamo fatto anche un torneo a Bolzano che è andato fantastico, siamo arrivati secondi su 18 squadre, tutte maschili, quindi anche lì è stata una bella soddisfazione, abbiamo un seguito di pubblico fantastico, i genitori sono sempre molto entusiasti di questa squadra e basta tutto qua.